La filiera è un rapporto che oramai siamo alla settima edizione e che si sta arricchendo ogni anno di tante informazioni, di analisi e confronto. Come dicevo nell'intervento fatto ci troviamo ad essere a confronto con i mercati internazionali. L'Italia purtroppo è indietro su molti indicatori, però questo lascia presagire la possibilità di un lungo percorso da colmare e recuperare. Dov'è la filiera dei servizi immobiliari? È una posizione da cui può trarre sicuramente vantaggio nel senso di funzionalità delle aziende a servizio dei nostri committenti. Come tutte le società di servizi, i servizi in generale nei momenti di difficoltà, di crisi anche globali, si trovano in una posizione anticiclica, quindi riescono a creare nuove opportunità. L'ultima che purtroppo stiamo vivendo ancora, questa pandemia, ha dato delle opportunità che probabilmente non ci sarebbero mai state se non ci fosse stata questa pandemia. vediamo tutta la parte legata agli interventi di riqualificazione, a tutti i bonus edilizi che la filiera immobiliare sta utilizzando, tra cui anche noi società di servizio. Quindi mi sento di dire che si trova in un punto di osservazione positivo, costruttivo, che potrà generare nuovi servizi e sostenere le aziende di settore. C'è un cambio, un cambio in corso, come ho detto c'è una rivoluzione in corso, il PNRR porterà nella filiera immobiliare oltre 55 miliardi di capitali da dirottare questo segmento e questo settore e quindi potrà dare un indotto importante. Allo stesso modo c'è l'ISG e quindi anche lì stiamo vivendo, dicevo nell'intervento, una delle opere di globalizzazione etica più importanti della storia recente, probabilmente. Quindi sta contribuendo a questa rivoluzione e quindi sta cambiando un po' tutto. Io ho visto negli ultimi dieci anni, posto testimoniare, che i nostri servizi hanno cambiato una centralità, siamo passati da un landlord di iniziare dieci anni fa per poi andare verso l'asset che era il centro dei nostri servizi, poi si è passati al tenant, sempre più presidio capillare, per arrivare ad oggi le persone. Tant'è vero molti dei nostri servizi si stanno orientando proprio sulla risposta dei fabbisogni che le persone hanno all'interno degli immobili che gestiamo, indipendentemente se questi siano immobili direzionali e quindi vengono vissuti per lavorare o immobili residenziali e quindi vissuti per abitare. Le persone hanno dei fabbisogni, dobbiamo ottimizzare questi tempi di permanenza offrendo risposta alle loro necessità.